Genitori preoccupati per i figli minorenni si sono recati al commissariato di Fano per segnalare un episodio increscioso e illegale. Al Green Pub, noto locale del centro storico, molti ragazzi, anche minori di 18 anni, avrebbero consumato bevande alcoliche. Un fatto accertato poi dagli agenti, diretti da Stefano Seretti, che hanno svolto un'attività di vigilanza. Hanno posto l'esercizio sotto osservazione e scoperto che quanto segnalato corrispondeva alla realtà. I poliziotti in effetti hanno notato un consistente movimento di giovani verso il locale dove stazionavano in gran numero, sia all'interno che all'esterno. E dopo aver visto palesemente i minorenni bere gli alcolici, hanno proceduto a un controllo. Dieci di questi, quasi tutti i sedicenni, stavano consumando cocktail a base alcolica acquistati nel pub. I ragazzi sono stati accompagnati in commissariato, dove sono stati convocati i genitori subito informati dell'accaduto. Il titolare dell'esercizio è stato sanzionato e il pub è stato immediatamente chiuso al pubblico. All'uomo inoltre è stata contestata la violazione delle norme anticontagio a causa di un'eccessiva presenza di avventori anche seduti ai tavoli. Per questo motivo, come misura accessoria, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni. Infine, gli agenti del commissariato, insieme alla polizia locale di Fano, hanno svolto gli accertamenti amministrativi nei confronti del circolo sportivo che si affaccia sul lago Solazzi, dove a fine gennaio i poliziotti avevano sequestrato alcune dosi di cocaina e arrestato il socio del circolo, un cinquantenne fanese. Dagli approfondimenti è emerso che l'attività veniva svolta in assenza della scia, ovvero l'autorizzazione necessaria per avviare un'attività di impresa. Pertanto, gli agenti hanno proceduto alla contestazione con conseguente sanzione di 1000 euro e chiusura dell'attività.